Come detto al chiuso favorito Honda Killer Gara 270, 382 Podargo Jet, 594 Ontario OR 737 Obelisco Diff, a doppia cifra tutti gli altri concorrenti. 150 metri allo stacco della macchina, macchina che prende velocità, la chiusura delle ali partiti. Ottos che sfila al comando, attaccato all'esterno da Love Day Children che insiste ai suoi fianchi, è partito fortissimo anche Morgana Bida, la seconda fila che rimane per il momento all'esterno. Insiste Morgana con Ottos che è andato davanti, con Morgana che insiste il lancio in 13,3 e Morgana completa il sorpasso dopo il completamento della prima piegata. Il passaggio primo quarto avviene in 27,1 Ottos che precede Primula, Cash, Omero Griff, via via tutti gli altri in rigorosa filentiana. Si vanno a formare varie pariglie con Morgana B che l'ha messa sul ritmo. I 600 iniziali in 42,3 molto veloce. All'esterno si fa sotto Love Day Children che si trascina Publio e il numero 10 di Podargo Jet. Intanto all'esterno c'è l'avanzata anche in terza ruota di Ontario, OR, il passaggio a metà corsa in 58,8 molto veloce. Si viaggia da 1,13 e mezzo ma Morgana B per il momento non ammette interferenze. Intanto c'è la terza ruota, lo scatto a largo da parte di Podargo Jet, il controfavorito ma Morgana va a rifinire il chilometro. In 1,13 e 5,14 e 7 di frazione, Podargo Jet ha preso sottotiro per l'appunto. Morgana B intanto comincia a muovere all'esterno anche Honda Killer Gar che avanza velocissimo con Morgana che ha passato i tre quarti in 1,27 e 9. E per il momento sembra aver respinto Podargo Jet. Si fa sotto Honda Killer Gar che avanza velocissimo all'esterno. e anche Old Fashion Club, tre cavalli che si apprestano ad entrare in addirittura di arrivo vicini tra di loro. È passato Honda Killer Gar ma deve parare l'appunto all'esterno di Old Fashion Club. Old Fashion che va su Honda Killer Gar ma Honda Killer Gar la porta a casa su appunto il numero 9 di Old Fashion Club. Al terzo posto si classifica la sorpresissima di Primo La Cache. Andiamo a vedere per le altre piazze dovrebbe essere il 10 e il 12 di Ontario OR. Però aspettiamo di vedere l'immagine 1,57 e 1. Intanto il tempo totale è un velocissimo 1,13 e 2. L'ultimo quarto in 29 e 2,14 e 8 la direttura d'arrivo. 16 al primo, 9 al secondo. Al terzo posto il numero 2 di Primo La Cache che precede il 10 di Podar Goget e il 13 di Morgana B che dovrebbe andare a completare il quinte. La vittoria per Honda Killer Gar Gaetano Di Nardo, 2,70 e la quota al tot nazionale. Al secondo posto il numero 9 di Old Fashion Club che ha preceduto il numero 2 di Primo La Cache. Terminato al terzo posto con Podar Goget al quarto e il 13 di Morgana B al quinto. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo. Andiamo a rivedere ancora la slow motion delle battute finali. 16, 9, 2, 10, 13. Il probabile ordine d'arrivo numerico di questa corsa. Tris, quartè, quinte, Honda Killer Gar favorita, 2,70. Ha mantenuto fede al pronostico. Etano Di Nardo, facile al successo. La linea ad Emanuele Cardona per l'intervista di rito e poi andremo a procedere alla premiazione.